P&E Escort HP 6500 ha un sistema automatico di riduzione del rumore e delle interferenze chiamato Digital Automatic Schelch. Lo Schelch manuale e automatico su 28 e 9 livelli insieme alla funzione RF Gain offrono una regolazione molto fine della ricezione. Grazie alle dimensioni ridotte di solo 110 x 120 x 25 mm la radio P&E HP 6500 può essere collocata in posti molto stretti senza ricorrere a un vero sistema di installazione. La radio P&E Escort HP 6500 è conforme alla legislazione europea ed ha una potenza di emissione di 4 W. La radio comunica sia nella banda AM che FM. A seconda del paese in cui si usa la radio, si può cambiare sia la banda di frequenza che lo standard di utilizzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.